Ciao ragazzi, sono al Palaborsane di Castellanza, patria, no, no, insomma, sede dove giocano i Legnano Knights di Palacanestro e il Sub Volley. È un palazzetto che molti di voi magari hanno conosciuto per gli appassionati di volley per le partite della Villa Cortese, qui hanno giocato le partite di campionato e di Champions League prima di unirsi a Novara. Insomma, quindi è un palazzetto tutt'altro che sconosciuto per gli amanti del volley. Sono qui perché ho delle coppie e adesso vi farò dei filmatini che poi monterò e vi farò vedere in questo video. Ciao! Bene, sono arrivato a casa, stanco, stanco tanto, e in realtà sono arrivato a casa e ho giusto il tempo di fare questo breve filmato, andare a lavarmi e poi andare a vedere la partita. E niente, dunque, torno da Castellanza con dei bei risultati delle coppie, ma soprattutto di una bella giornata, stancante, cioè distrutto perché mi sono sparato praticamente tra una cosa e l'altra circa 12-13 ore di palazzetto, fatto proprio dalle 8 del mattino fino a quasi le 8 di sera, quindi insomma direi che la giornata è stata alquanto tosta, però insomma, bella, bella è la fine. Diciamo che è andata bene. Questo filmato ovviamente racchiude dei filmati di questo bellissimo palazzetto, spero che vi sia piaciuto, al prossimo video sia del canale e anche della rubrica Fuori Rosa TV in Viaggio. Ciao a tutti!